Termina qui il nostro giornale, ma ora parleremo di Spending Review che potrebbe abbattersi sul settore culturale. FederCulture ha presentato a Roma gli emendamenti al decreto. Paolo Zeffri ha intervistato il presidente di FederCulture, Roberto Grossi. Vi lascio dunque a queste interviste e vi ricordo che a mezzanotte torna il notiziario con le prime pagine dei quotidiani che troverete domani mattina in edicola. Restate su Rai News. Spending Review è una legge cieca. La scure sta proprio nel fatto che colpisce in modo indifferenziato, senza scegliere le cose che vanno e le cose che non vanno nel paese. Ora siamo tutti consapevoli che occorre rigore e il massimo della responsabilità, però dobbiamo salvare quello che nell'economia reale funziona. Nel settore della cultura e dell'industria creativa vale il 5,5% circa della ricchezza nazionale del paese. Non ci possiamo permettere di buttare a mare il settore del cinema, il settore della musica, dei musei che rappresentano, o del design, che rappresentano un pezzo fondamentale della competitività dei territori, ma anche del nostro export. Quindi sarebbe veramente una gravissima controindicazione quella di indebolire ulteriormente il paese che sta facendo fatica per trovare una nuova sua via di recupero del nostro deficit e di rilancio. In sostanza voi state dicendo ai tecnici di fare i tecnici fino in fondo e di controllare bene i conti? Il paradosso è che per salvare i conti dello Stato noi li affossiamo ancora di più, perché colpiamo le realtà che producono ricchezza nelle nostre città, è assolutamente evidente. Il punto è che noi abbiamo fatto presentare da senatori di tutte le forze politiche i nostri emendamenti, quindi che sono presenti all'attenzione della Commissione Tecnica al Senato. Ci aspettiamo, auguriamo, che nel maxi emendamento, che poi anticiperà la fiducia, queste vengano inserite. Altrimenti torneremo indietro di 30 anni proprio sul modello di sviluppo del paese che è stato centrato dal dopoguerra in poi sullo sviluppo delle conoscenze e sull'arte e la cultura come elemento di competitività delle nostre città. Il taglio alla cultura alle volte ha degli aspetti paradossali, se non grotteschi. Si dice che doveva chiudere la discoteca di Stato, poi si dice che non si chiude più, ma si danneggia l'Istituto degli Archivi. Che succede in Italia? Guardi, il problema è molto semplice. Questa normativa segue un filo conduttore, una visione verticale dello sviluppo. Noi invece pensiamo che l'Italia è orizzontale, l'Italia è l'Italia delle diverse stratificazioni sociali, delle tante città di cui la cultura è parte integrante. E allora il rischio è che si oscilli o tra rientrare tutto nell'apparato pubblico, nella pubblica amministrazione, chiudiamo il centro sperimentale per farlo rientrare dentro il Ministero, oppure di andare totalmente a gara. Sono entrambi questi paradossi sbagliati, perché in mezzo c'è invece una collaborazione, una rete intelligente pubblico-privato, che fino adesso ha dato dei frutti straordinari. Allora perché buttarli al mare? La legge purtroppo indifferenzia, come dicevamo prima, e non dice perché si chiudono delle esperienze. Si dice semplicemente che vanno ridotti i costi, senza pensare che in qualche caso è un aumento dei costi. Perché se un museo deve ritornare nella gestione diretta del comune, raddoppiamo i costi e peraltro le norme neanche lo consentirebbero, perché i comuni non ce la fanno neanche a gestire l'esistente. Quindi il rischio è la desertificazione, quello di cui noi siamo preoccupati è che si creerà il deserto nelle nostre città, quindi città meno vive, meno attraenti e meno ricche. Come dire, qualcuno forse pensa che l'Italia del bel paese si regga in piedi per i gatti e i centurioni al Colosseo? Un'ultima cosa, io vorrei parlare di una cosa di cui si parla sempre meno, che è il bilancio sociale. Il bilancio di uno Stato non è fatto soltanto dei conti economici, ma è fatto del bilancio sociale. Se noi dovessimo contare quanto ha portato al PIL del nostro paese, Cinecittà, forse non riusciremmo a farlo questo conto. È assolutamente vero, infatti la cultura è un pezzo della democrazia, la cultura è un pezzo fondamentale del welfare, perché consente a tutti di crescere, di conoscere, di sperimentare l'esperienza dell'arte e della comunicazione tra le persone. Insomma, dare un taglio alle aziende che producono cultura vuol dire in fondo dare un taglio alle possibilità di sviluppo della democrazia. E proprio per questo non si può andare solamente a gara, non si può lasciare questo settore puramente alle logiche del mercato, ma è un settore che richiede necessariamente una visione, un disegno, che non può prescindere dall'intervento pubblico e soprattutto non può prescindere dall'intervento degli enti locali, che sono quelli che decidono, che sono più vicini al territorio e ai cittadini.